In questo nuovo appuntamento cerchiamo di capire il superuomo di D'Annunzio un superuomo di D'Annunzio che nasce come costola del pensiero del superuomo di Friedrich Nietzsche bisogna dire che innanzitutto D'Annunzio mentre stava scrivendo il terzo libro delle Laudi viene a conoscenza del pensiero di Friedrich Nietzsche del superuomo e ne rimane profondamente affascinato lo fa suo anche se lo trasforma totalmente perché il superuomo di D'Annunzio è ben diverso dal superuomo Huberkmesch del filosofo tedesco il superuomismo di D'Annunzio infatti è un superuomo che è paragonabile a un eroe è un superuomo esteta, è un superuomo dell'estetismo è un uomo che trasforma la propria vita in un'opera d'arte obbedendo a quelli che erano i canoni dell'estetismo noi abbiamo visto che nell'estetismo l'artista vive la propria vita come se fosse un'arte il superuomo di D'Annunzio è un uomo che vive la sua vita fatta di eccessi è fatto di eccessi perché? perché ha sempre bisogno di dimostrare la propria forza il proprio coraggio è un superuomo in sostanza quello di D'Annunzio che partecipa all'occupazione di Fiume alla marcia su Fiume, all'occupazione della città Fiume il superuomo di D'Annunzio è un superuomo che deve palesarsi con questi gesti estremi e quindi prende un aereo e vola su Vienna a lanciare i bigliettini sulla città austriaca il superuomo di D'Annunzio è un uomo che deve mettere in mostra se stesso questo sorta di macismo diciamo che il superuomo di D'Annunzio è paragonabile a un personaggio dei fumetti o della fantasia Superman oppure a Flash o Aquaman o altri eroi dei cartoni animati quindi per D'Annunzio il superuomo è in sostanza un uomo che si eleva dalla massa è un superuomo che tratta quasi con disprezzo la massa perché appunto egli si sente una razza superiore di fronte a tutto il popolo è un superuomo che potrebbe essere identificato con l'aristocrazia un'aristocrazia che deve essere capace di imporsi sul popolo il superuomo di D'Annunzio è un superuomo che con la propria forza intellettuale deve opprimere e sopprimere la mediocrità della popolazione come se appunto questo superuomo di D'Annunzio sia un uomo vate un uomo che ne sa più dei borghesi o del popolo e grazie alla sua forza intellettuale deve imporsi su tutti quanti quindi questo è il concetto del superuomo di D'Annunzio che è ben distante, si discosta tantissimo dal superuomo di Nietzsche che in effetti lo stesso Nietzsche non diceva superuomo non lo chiamava superuomo ma infatti era ubeckmesh ossia oltreuomo l'oltreuomo di Nietzsche è tutt'altro che il superuomo che abbiamo descritto in D'Annunzio l'oltreuomo, l'ubeckmesh di Nietzsche è un uomo capace di sopportare la vita così come si presenta all'uomo una vita fatta, costituita dalle difficoltà che l'uomo incontra il superuomo, l'ubeckmesh di Nietzsche è un uomo che di fronte alle difficoltà non si arrende ma cerca di superarle è disposto a vivere nel dolore è disposto a vivere nelle esperienze più di una volta le esperienze dolorose il concetto del superuomo di Nietzsche possiamo anche esprimere attraverso una metafora è la metafora del cammello, del leone e del bambino in sostanza cosa dice Nietzsche? dice Nietzsche che l'uomo è innanzitutto è un cammello è un cammello perché? Perché è un animale che più di tutti sopporta le fatiche della vita è l'animale che sopporta il peso delle tradizioni è l'animale che riesce ad accettare tutto ciò che la società gli ha raccontato tutto ciò che la tradizione gli ha raccontato è l'animale che accetta senza discutere tutto il peso della cultura passata è un animale quindi che subisce subisce, punto e basta però questo cammello ha la forza di trasformarsi in leone il leone che cosa fa? Si spoglia della pesantezza della tradizione abbandona tutti i canoni degli antichi valori è come se egli stracciasse, proprio distruggesse tutti quei valori che nei secoli sono stati trasmessi e anziché come il cammello sopportare la pesantezza della tradizione anziché mettersi lì chino ad accettare tutto ciò che la società gli impone il leone è uno che dice no, io non ci sto e antepone all'obbedienza l'io voglio io voglio, io non voglio accettare la tradizione io non voglio accettare la cultura del passato io voglio solamente il problema è che il leone non è il vero super uomo e il leone è diciamo il ponte di contatto il corridoio, l'anticamera tra il cammello è il vero Urbeck Mesh e il vero Urbeck Mesh è il bambino perché il bambino? perché il bambino è il vero super uomo è il vero oltre uomo di Nietzsche il bambino è il vero oltre uomo perché è potenza creativa il bambino è il vero oltre uomo perché è colui che non accetta non accetta, non conosce e quindi è libero dalle convenzioni sociali convenzioni sociali che poi il bambino divenuto adulto deve accettare se il bambino è libero da queste convenzioni sociali e non ha nessuna restrizione non ha nessun freno è il vero creatore è colui che veramente crea è veramente colui che è il vero oltre uomo perché non ha nessun freno nessun paletto il problema è che il bambino quando poi cresce diventa adulto dovrà accettare le convenzioni sociali il bambino è spontaneo il bambino è colui quale se decide di disegnare il cielo di verde e il prato azzurro lo fa perché lui piace così lui è una potenza creativa poi però invece divenuto adulto deve accettare le convenzioni della società di tutto ciò che sta attorno e disegnerà anche il cielo azzurro e il prato verde quindi il vero oltre uomo di Nietzsche è il bambino che ha nulla a che fare con il super uomo di D'Annunzio questo è un uomo che per dimostrare la sua potenza il suo bacismo ha bisogno di imprese eroiche e la sua potenza